Sindaco al Comune di Torano, sono pervenute due istanze per il posizionamento di stazioni radiobase. Qual è la posizione dell'amministrazione in merito? Allora, diciamo che la questione va affrontata in maniera amplia, da diverse prospettive. Nel senso che di fronte a questa questione noi non possiamo dire sì, siamo d'accordo nel far posizionare delle antenne, delle stazioni radiobase, piuttosto che no, provo a spiegarmi meglio. Perché no? Innanzitutto perché andremmo contro quello che è il progresso naturale e soprattutto io credo che se avessimo i nostri cellulari che per mezz'ora non hanno la linea, subito ci allarmiamo. Quindi questo è anche un motivo per il quale io ho ritenuto di non adottare ordinanze contro il 5G. Uno, il primo perché il Servizio Sanitario Nazionale, insomma varie figure che sicuramente si occupano scientificamente della valutazione dell'impatto negativo stanno dando degli esiti di altra natura e in altra direzione. Poi perché ritengo che comunque con un'ordinanza di un sindaco non si può andare contro la legge. Queste sono un po' le regole proprio base della gerarchia delle fonti del diritto. E quindi dire no to court è evidentemente cosa poco opportuna e anche direi contro legem. E contro il progresso medesimo. Io faccio sempre questo esempio, anche le automobili inquinano, però oggi non è che noi torniamo ad andare con il calesse, le usiamo tutte e è cambiato lo stile di vita e quindi ci gioviamo del progresso. Dall'altro lato però dire sì e quindi fare andare avanti un'istruttoria senza darne comunicazione alla cittadinanza, senza in qualche modo approfondire questa vicenda, noi riteniamo che sia anche poco ragionevole e poco opportuno. Ecco perché abbiamo ritenuto di aprire una conferenza di servizi, seppure asincrona, e quindi richiedere a determinati enti di offrire il loro parere. Ci siamo anche rivolti alla cittadinanza in maniera tale che se ci fossero dei comitati piuttosto che dei privati che vantano degli interessi diretti su queste eventuali installazioni di impianti e che possano in qualche modo portare avanti le loro istanze. Sulla scorta di questi approfondimenti poi naturalmente il comune si pronuncerà.